Normalmente molto tranquillo, credo in 23-24 anni di rugby giocato presso un paio di qualche cartellino ma assolutamente di gioco, è sempre stato un rapporto molto, credo molto cordiale, nel senso che loro sono gli arbitri, fischiano, giustamente sbagliano, noi come giocatori sbagliavamo, come allenatori sbagliamo tantissimo e quindi credo che sia il rapporto di reciproco rispetto e molto corretto, non si parla di quello che fanno gli arbitri se non per una crescita di dire io ho visto questa cosa, secondo me sarebbe questo, come l'hai vista te, cosa ne pensi? Per fortuna la gente, la maggior parte, disposta ad un rapporto di questo tipo e credo che è quello che serva per crescere come movimento. Grazie a tutti! Grazie a tutti!